Belen conferma la rottura con Antonino Spinalbese. Mentre il figlio Santiago si diletta in cucina, non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina. Belen Rodriguez si è dichiarata ufficialmente single. Per la prima volta dall'orma in nota crisi con Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha confermato in maniera diretta la rottura. . Dopo una vacanza di relax in Argentina insieme all'amica Patrizia Griffini, Belen è tornata a casa dai suoi figli, Luna Marie e Santiago, con i quali sta trascorrendo giornate di amore a Milano. Durante un momento di giochi in cucina con il primogenito che si diverte a prepararle le uova, Belen scherza, non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina. La rottura con Spinalbese è ormai una certezza, anche se la coppia non ha ancora voluto parlarne pubblicamente. Il settimanale che aveva dedicato loro un servizio che attestava il loro amore, pochi giorni dopo la nascita di Luna Marie. Sembravano una coppia destinata a durare, Belen giurava di aver trovato il suo uomo ideale, ma sono bastati pochi mesi da genitori per rendersi conto che la coppia non avrebbe retto al peso del tempo. Il gossip racconta che Belen e Antonino avrebbero passato fin troppo tempo in casa insieme per prendersi cura della piccola, tanto che lui avrebbe poi deciso di tornare a vivere da solo e di rintanarsi in Liguria dalla sua famiglia non appena possibile.